Questa sera per voi, produzione M e M, loro Juan Matos e Michael Fon. Grazie. 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 Che tuama problema che la prima prima prevismai Atchimovì fa qualcosa cosa Che era di 30 Che tuamava problema che la prima prevismai Dice Fuciti Che Divacito Che tuamava problema che la prima prevismai Tu me vienas, io me levo, papà, che me vanno a pire! A presto, un forte applauso! Allora, noi vieni che lo presentiamo, vieni che lo presentiamo per primo. Ragazzi, fra dieci anni loro non balleranno più e ci sarà Davide. Davide! Loro sono l'ombato di Michael Fons all'azionatino lunedì 8 dicembre! Grazie! 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 Grazie!